Sono stati gli agenti della polizia locale di Cadoneghe a eseguire l'ordinanza della questura di Padova che dispone la chiusura per 30 giorni di questo bar di Piazza della Repubblica. Era il 14 giugno quando, tra il titolare del locale, un cittadino cinese, e un gruppo di minorenni è scoppiata una rissa finita con una coltellata all'orecchio di uno dei ragazzi, originali dell'est europeo, presenti. Dall'indagine successiva ai fatti, il provvedimento emesso dal questore Antonio Sbordone a cui sono arrivati i ringraziamenti del sindaco Marco Schiesaro che annuncia, dopo quelli già eseguiti con la polizia locale di Venezia, altri controlli in tutto il territorio in collaborazione con gli agenti della polizia locale di Padova con cui è stata sottoscritta una convenzione.